Per voi difensori è un momento dove forse serve ancora più attenzione con le gambe che non vanno al meglio, con il mister che chiede un gioco propositivo, insomma una pressione alta, c'è da fare sempre attenzione. Sì, sicuramente il gioco del mister è molto propositivo, tante azioni vengono sviluppate da dietro, abbiamo il compito di comunque prenderci delle responsabilità e di creare gioco, però lo facciamo più che volentieri, anche oggi tante azioni sono partite comunque dal nostro gioco dietro e come ha detto il mister la prestazione è stata positiva, arriverà qualche gol in più in campionato, meglio che non arrivino oggi piuttosto che in futuro, le occasioni le abbiamo avute e continuiamo così perché la prestazione è stata positiva. Con meccanismi più agliati e con una condizione migliore saranno gol da evitare, però è stato un bel moden che ha offerto una prestazione anche superiore all'avversario. Sì, penso che comunque la cosa positiva è stata che sia sul 1-0, sul 2-0 abbiamo sempre fatto la nostra partita, abbiamo sempre tenuto in mano il pallino del gioco, purtroppo le disattenzioni in queste categorie si pagano, abbiamo preso due gol su delle disattenzioni, staremo più attenti, comunque i carichi di lavoro, il caldo sono degli alibi, però comunque hanno anche il loro peso. Abbiamo impostato la partita in questo modo, già all'intervallo ci siamo detti comunque vada, noi continuiamo a fare la nostra partita e al settantesimo comunque anche l'avversario è calato, abbiamo trovato più spazi e nel giro di dieci minuti abbiamo fatto due gol e anche lì abbiamo sempre provato a fare di tutto per arrivare a fare il terzo, quindi penso che l'atteggiamento è stato assolutamente positivo. A livello personale com'è stato questo percorso, prima dal ritiro di Fanano, poi adesso al centro della difesa, come perno della difesa in questa prima ufficiale? Sono contento, sia della prestazione collettiva che personale, è un debutto per me importante, in una piazza è un palcoscenico importante, quindi sono contento, ovvio la vittoria avrebbe reso tutto ancora migliore, però penso che avendo comunque creato tanto, i gol col tempo arriveranno, magari li mando qualche errore difensivo, penso che possiamo davvero toglierci delle belle soddisfazioni quest'anno.